14.303 elettori, soddivisi in 17 sezioni, sono chiamati alle urne a Montemurlo per l'elezione del nuovo sindaco. Quattro i candidati alla successione a Mauro Lorenzini, che per dieci anni ha amministrato il comune sotto la rocca. Il centro-sinistra punta sulla continuità con Simone Calamai, vice-sindaco uscente, appoggiato da PD, sinistra per Montemurlo e Amare Montemurlo. Tra i suoi principali punti programmatici ci sono la realizzazione del nuovo centro cittadino con un'area verde davanti al municipio e l'impegno su economia e lavoro. La promozione del territorio e del lavoro è un tema centrale del nostro programma ed è stato un tema centrale di quello che è stata l'attività dell'amministrazione comunale in questi anni. Sapete che il 97,3% in questo momento dell'area produttiva del nostro comune è occupata da aziende sane e dinamiche e questi hanno contribuito sicuramente a portare nuova vitalità e nuovo dinamismo anche nel resto del nostro comune. Quindi vogliamo proseguire nel stargli accanto, nel cercare di promuovere nuove facilitazioni, poca burocrazia, nel sostenerle quindi nella loro attività. Il centro-destra schiera Matteo Alessandro Mazzanti, esponente di Fratelli d'Italia, sostenuto oltre che dal suo partito anche da altre due liste, Lega Salvini Premier e insieme per Montemurlo. Tra le sue proposte l'istituzione della tariffa puntuale sui rifiuti, un database comunale per favorire l'incrocio di domanda e offerta di lavoro e un impegno prioritario sul fronte della sicurezza. Abbiamo proposto delle soluzioni pratiche, intanto modificare il turno della Polizia Municipale perché rispetto ai numeri che abbiamo, continuare a voler fare per forza un turno in terza e non avere le risorse disponibili per coprirle in maniera efficiente ed efficace non ha senso. Quindi potenziare gli altri due turni ma al contempo aprire a specifiche convenzioni con le agenzie private che offrono sicurezza sul territorio. Già a Montemurlo ce ne sono diverse, offrono servizi di qualità e attraverso un disciplinare potremmo creare una sinergia di cui beneficerebbe tutto il comune. Angela Tortolano, candidata del Movimento 5 Stelle, si impegna a presentare una proposta di legge da inviare ai parlamentari pentastellati per garantire incentivi per le opere di adeguamento degli edifici della zona industriale di Montemurlo da un punto di vista strutturale e della prevenzione incendi. Tra gli altri impegni, attenzione all'ambiente e più partecipazione sul progetto del centro cittadino. Quello che vogliamo evitare è che comunque si faccia un uso smudato del cemento. Inoltre vogliamo chiudere la zona prospicente al comune, al traffico veicolare e pensare comunque sempre a percorsi ciclopedonali perché noi nel nostro programma prevediamo di sviluppare il più possibile quello che per noi è importante, c'è una sostenibilità ambientale. Infine Giuseppina Sabato, candidata sindaco di Lega Toscana a Montemurlo, si impegna per un graduale abbassamento dei costi delle rette di asile nido, menze e per sostenere le famiglie nell'acquisto dei libri scolastici. Fra gli altri punti del programma una campagna di rottamazione delle cartelle esattoriali pendenti. Sta il distraccio di cartelle esattoriali per ripartire, per far ripartire soprattutto i cittadini, per ripartire l'economia anche qualora sono ferme e poi no al fermo amministrativo per l'auto perché è un bene di prima necessità e serve per andare a lavorare, per accompagnare i figli a scuola, per portare a accompagnare i anziani.